È una piazza ottimista quella in cui ci troviamo oggi? Sì, è una piazza ottimista, una piazza anche realista, che è consapevole delle questioni che sono in campo. Non si discuta se cinque mesi prima o cinque mesi dopo le elezioni. Non si discute dare continuità al lavoro di un Presidente del Consiglio credibile, con una maggioranza molto ampia, che rappresenta destra e sinistra, ma che rappresenta gli interessi del Paese. E soprattutto si chiede di tener conto che l'Italia viene prima degli interessi di qualchesiasi partito, in questo caso quelli di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. Per me è possibile anche una maggioranza con dei fuoriusciti dei 5 Stelle? Noi abbiamo detto con chiarezza che il perimetro della maggioranza per noi è quello che c'era prima, salvo chi se ne vuole andare. Se poi lei mi chiede se si trova bene in maggioranza con i 5 Stelle, dico no, non è che mi trovo bene. Però se il Presidente Draghi riesce a coinvolgere di nuovo anche loro, non saremo noi a fare la lista di chi deve uscirne.